Sappiamo che affronteremo un ostacolo importante ma vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo e soprattutto dare continuità ai punti che stiamo facendo. Prima contro seconda, come una settimana fa dopo il Monopoli, la Turris, secondo impegno casalingo di fila per il Bari di Michele Mignani, capolista del girone C di Serie C. Al San Nicola, con fischio d'inizio domenica alle 17.30, arrivano i campani di Caneo che seguono Terranova e compagni a quattro punti. Guai assicura l'allenatore a parlare di partita chiave. Sono troppo poche le partite per parlare di fuga, ci sono troppi chilometri davanti da fare. Anche quando io sono abbastanza appassionato di ciclismo, le fughe che contano, quelle che portano all'arrivo, sono quasi sempre quelle che partono negli ultimi strappi. E' una partita dove per noi è importante fare punti, come ho detto prima, dare continuità, soprattutto dare continuità di prestazione, perché poi se fai prestazione molto spesso vengono i risultati. Noi abbiamo fatto sempre prestazioni e sono venuti i risultati. Questo è l'obiettivo per la partita di domani. Il Bari è una delle due cooperative del gol nel girone C. Otto marcatori diversi in sette giornate, come il Foggia, Biancorossi da record, anche per le reti con subentranti quattro alla pari della Paganese. All'appello mancano i centri di Derrico e Marras e il primo gol su azione di Mirko Antenucci. Speriamo li facciano quando c'è bisogno. Antenucci, io so che i gol li fa e li farà. Antenucci non per me è una certezza. È complicato per un allenatore quando hai un parco attaccante, ma un parco giocatori più in generale, un parco giocatori così. Devi fare delle scelte, delle scelte a volte penalizzano qualcuno, a volte è stato penalizzato Simari, a volte è stato penalizzato Antenucci, a volte è stato penalizzato Marras. Capitolo infermeria di Cesare, reduce da una settimana di lavoro a parte e i dubbi in difesa non finiscono qui. Quando vieni fuori da una partita tosta, dura e difficile come quella di Monopoli ci possono essere delle piccole scorie, delle botte, dei piccoli sentimenti muscolari. In linea di massima abbiamo recuperato tutti, c'è forse Celiento che dobbiamo valutare meglio degli altri, però gli altri sono tutti a disposizione. Di fronte ci saranno il miglior reparto arretrato, quello del Bari con Taranto e Juve Stabia a tre golle, l'attacco più prolifico, quello della Turris con 14 centri. A Bari esistono quattro precedenti ufficiali tra le squadre, tre le vittorie biancorosse e uno il pareggio nell'incrocio più recente, l'1-1 del 10 gennaio 2021.